allora erano anziani 50 che non c'eravessero uno l'aveva, date chi ne aveva? l'aveva la 5 cent credo che ero in pensione e mi diceva, oggi c'è la Madonna che ti fa da 5 cent Madonna, tu devi tracere che andai in pensione dopo faccio i piccini qua e là e non c'eravano solo la 5 cent e te? mi ha bec faccio la mia bec e via, andò, qui c'è qua l'aveva invece da 5 cent e poi c'è Madonna mi devi tracere tutti i piccini ma e te? mi ha bec e il terzo anno arriva c'è qua che ti bevo con la Ferrari e c'è Madonna dicono, te ti metti la mia melecent e te te la Ferrari mi ha messo qua cioè, avevo venduto tutti i volti ahahah quando c'è qua che ti bevo? eh, una volta c'era poi lì il Water Ranger aveva venduto tutti i volti c'è quella Ferrari mi ha bello vele mi ha bello mi ha proprio